Innanzitutto grazie per l'accoglienza, vorrei ringraziare lo staff, la piscina è stata veramente fantastica, mi è piaciuto tantissimo questi giorni a Merano, mi sono divertita e le gare sono state un buon allenamento diciamo perché ne ho fatte veramente tante e sono contenta, sono buone sensazioni per la settimana prossima comunque che c'è il trofeo Sette Colli, quindi spero bene. Credo che ho fatto un gran lavoro in questi ultimi mesi e Sette Colli dovrebbe andare per il meglio se tutto procede come sta procedendo. In questi giorni a Merano avevamo avuto una grandissima accoglienza da parte appunto dello staff della piscina, la piscina in se stessa, soprattutto i fans, i piccoli bambini, anche l'hotel, diciamo che è stata veramente una settimana bella, la rifarei assolutamente e mi è piaciuto tutto quanto. Quindi rivedremo Ilaria a Merano? Sì, spero di sì. Grazie a tutti.